Un cordiale saluto, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Questa è la rassegna stampa di oggi, martedì 4 luglio 2017. Siamo, come tutte le mattine, in diretta alle 7.30 per sfogliare i quotidiani Il Corriere Adriatico e il resto del Carlino, le edizioni di Pesaro Urbino. Allora, partiamo dal calendario di oggi. Vediamo subito il santo e se possiamo fare gli auguri a qualcuno. Per esempio, a chi porta il nome di Elisabetta, perché oggi la Chiesa Cattolica ricorda Santa Elisabetta di Portogallo, è stata una regina. Il sole è sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.54. Per quanto riguarda il tempo non c'è molto da dire, perché sarà bello per tutta la settimana. Addirittura queste giornate di bella estate, con temperature anche gradevoli, lasceranno il posto ad un aumento delle temperature e quindi tornerà il caldo affoso. E il tempo sarà stabile fino a domenica. Allora, i giornali. Cominciamo dal resto del Carlino. Questa è la pagina di Pesaro, con la fotonotizia dedicata al turismo e la guerra delle prenotazioni. C'è un'applicazione, si chiama Airbnb. L'utenza del portale cresce e cresce così anche la concorrenza, che adesso inizia a far paura agli albergatori pesaresi, che accusano chi affitta spesso lo fa senza regole e non paga le tasse. Le pagine interne. Quella di Fano. Il sindaco fa rinascere piazze e giardini e ci riproporremo capitale della cultura. Fano, capitale italiana della cultura 2021, dopo aver rinunciato a quella del 2020 per favorire Macerata. Inizieremo a lavorare al dossier già a settembre e abbiamo, dice il sindaco, grandi potenzialità. E poi annuncia il sindaco Seri una scultura di Vangie, che sarà, diventerà il nuovo simbolo della città di Fano. E da giovedì, da tutta Italia e dal mondo, arriveranno tante persone, soprattutto tantissimi giovani, per quattro giorni di skateboard. Questo campionato che parte, si comincia con la sessione libera, domenica ci saranno le finali e gli organizzatori dicono ci aspettiamo un'invasione. Alessandro Vitali dice Fano è la città ideale per questo tipo di manifestazione. Sotto invece, in tanti, per l'addio a Giorgia Buccellati, il Carlino questa mattina ricorda la poetessa, giornalista, scrittrice, con un ricordo, il ricordo di Carlo Moscelli. Trovò un test del delitto Matteotti, ma Giorgia non pubblicò mai quell'intervista. E Fano ha perso un altro dei suoi personaggi storici, così appunto l'amico giornalista Carlo Moscelli, nel giorno dell'estremo saluto a Giorgia Buccellati, insegnante, giornalista, poetessa, scrittrice, che venerdì scorso ha scritto la parola fine sul suo libro terreno, alla soglia dei 90 anni. A Fano, tra l'altro, lei ha organizzato per diversi anni anche il premio letterario Fano Fortuna, portando nella città di Fano tanti poeti e scrittori. Sconti e se restauri la facciata. E siamo al San Lorenzo in campo, c'è anche l'Imu ridotta per chi decide di sistemare la propria abitazione per far bello il proprio paese. È l'incentivo che lancia il sindaco di San Lorenzo in campo, Davide Dell'Onti, ai suoi concittadini, in sostanza chiede di sistemare, di aggiustare, di fare diventare bello il paese. E in cambio, per esempio, se un residente decide di restaurare la facciata di casa, c'è anche la possibilità di avere l'Imu ridotta, ma anche tante altre agevolazioni. A saltare invece, Colli al Metauro, un rogo, forse doloso, conigli e uccelli bruciati, una casa rurale che è andata in fiamme da un primo esame della situazione, si pensa che si tratti comunque di un atto doloso. Quindi qualcuno deve aver provocato questo incendio. Maltrattava invece e insultava la moglie, è condannato il dietologo delle Star. Il giudice ha inflitto un anno e nove mesi a Guido Porcellini, 48 anni, medico nutrizionista, collaboratore di svariati campioni sportivi, tra cui Filo Magnini, è stato condannato ieri ad un anno e nove mesi di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell'ex moglie, Lucia Pavoni. Adesso servirà una causa civile per quantificare il risarcimento danni, concessa una provvisionale di 10.000 euro. La pagina di Urbino del resto del Carlino, l'Ateneo torna a scalare la classifica Censis, nella valutazione generale, dal decimo posto l'Università di Urbino passa all'ottavo, nella comunicazione un balzo in avanti. E adesso il Corriere Adriatico. La pagina di Fano apre con la sanità, macchinario non disponibile, il trattamento lo fa in Umbria, il disservizio patito da un paziente fanese che per il calcolo dell'uretere va in clinica. Un po' scioglilingua. La risposta più efficiente dalla struttura privata che in una settimana invece fissa l'appuntamento. È un po' una cosa che ormai succede da sempre, purtroppo, e scandalizza ancora. Poesia e senso civico invece, addio all'amante della vita, la testimonianza e alle esequie di Giorgia Buccellati, ne ricordano il profilo e la qualità. Al via uno studio invece, sull'area industriale di Bellocchi, non chiarite alcune emergenze, l'assessore non vuole il tavolo tecnico del comitato perché dice è di parte. È stato avviato dall'assessore all'ambiente del comune di Fano questo tavolo tecnico per cercare di capire un po' che aria si respira nella zona appunto di Bellocchi di Fano. La centralina ha rilevato 28 sforamenti ma le emissioni della Profinglass sono in calo. Poi c'è la notizia sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico di questa mattina di due violenti litigi in un appartamento in Via Nolfi, la parte sud di Via Nolfi. Spunta anche un coltello. Un fine settimana focoso, residenti esasperati, si teme una reazione inconsulta. Stagno Urbani fa più danni alla burocrazia della siccità. L'oasi faunistica di Fano lasciata senza fondi, una zona umida paradiso, dove è possibile ammirare diverse specie di animali. Lo stagno Urbani si trova a 4 chilometri dalla foce del Metauro. 6 ettari di proprietà di Federnatura e Cronos, 1991, manca un centro di educazione ambientale. Guardate questa fotografia, è la fotografia che ritrae un palco all'interno dello stadio Benelli, lo stadio Benelli di Pesero, poltroncina e pedana al Benelli, Anastasia sold out, tutto esaurito in sicurezza. Dopo i guai per il manto erboso, danneggiato allo stadio, si corre ai ripari per il concerto dell'11 di luglio. E poi, sempre da Pesero, Matteo Ricci lancia il sasso per portare a Pesero la mostra di Vasco Rossi. Dopo il grande concerto al Modena Park, tanti pesaresi che sono andati in Emilia per assistere al concerto dei record, il sindaco pesarese accarezza l'idea di questa esposizione, di questo museo. La rassegna che celebra i 40 anni di carriera di Vasco Rossi si è appena conclusa con successo. I primi tre anni di Vallefoglia, invece, i primi tre anni li ha raccontati il sindaco, Palmiro Ucchielli, il quale dice che la fusione è stata una svolta. Il sindaco dice anche triennio impegnativo, bellissimo comunque il lavoro che è stato fatto, che è un lavoro di squadra. Dalla Valle del Cesano, programma di incentivi, e qui siamo sempre a San Lorenzo in campo, con quello che vi dicevo poco fa, letto anche dal resto del Carlino, gli incentivi per coloro, per i residenti che vogliono, in qualche modo, sistemare la propria abitazione. Ecco le misure della Giunta per valorizzare i centri storici di San Lorenzo in campo e delle frazioni. Per dare lavoro, siamo invece a terre roveresche, per dare lavoro, il sindaco Antonio Sebastianelli parte dalla cooperativa di comunità. La base sono i servizi da 400 mila euro che il comune può gestire anche in proprio. Invece a Iesi, qualcuno ha minacciato l'Agenzia delle Entrate, i dipendenti. Buffoni, vi impiccheremo tutti, il cartello è stato notato alle 8.30 e deve essere messo sulla vetrina di notte, deve essere stato messo di notte, e adesso indagano i carabinieri. È stato trovato questo foglio ieri mattina. Dieci giorni in fa, invece, alla direttrice, sempre dell'Agenzia delle Entrate, avevano bucato una ruota della sua macchina, dell'auto. Da Senigallia, invece, auto sul marciapiede con il pass. In via Mastai, la sosta è un privilegio, il segretario comunale dice tutto regolare, c'è lo spazio per consentire il passaggio dei pedoni. L'ultima pagina della rassegna, quella di Urbino, il giallo della depurazione. C'è chi deve pagarla e chi no. Il caso Schieti sollevato dal pentastellato, cioè da uno dei 5 Stelle, Fabri, che dice sarebbero giusti i rimborsi. Ok, noi ci fermiamo qui. La rassegna stampa torna domani mattina, ma questa sera, alle 20 e 30, come sempre, c'è il telegiornale. Occhio alla notizia. Questo, invece, è il numero di telefono 338 49 68 250 per le vostre segnalazioni audio, video e semplicemente di testo. Grazie per averci seguito. A voi tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie. Grazie. Grazie.